Nel Museo Nazionale di Reggio Calabria sono conservati i bronzi di riace, due statue di bronzo che rappresentano uno dei momenti più alti della produzione scultoria di tutti i tempi. È il più importante rivenimento archeologico dell'ultimo secolo. La statua A è una scultura a tutto tondo realizzata in bronzo e alta 1,98 m rappresenta un uomo giovane e forte completamente nudo in posizione stante. La distribuzione del peso e la posizione degli arti sono organizzati secondo il chiesero del pondus. La statua, cioè pur non esprimendo intenzione di movimento, ha una posa naturale e non rigida. Il braccio destro è disteso lungo il corpo, il sinistro è piegato e rega a metà dell'avambraccio all'anello di un pugnatura di uno scudo. Tra gli arti portanti e quelli liberi c'è quindi una corrispondenza a chiasmo. La muscolatura, vigorosa del torace, della schiena e dei fianchi, è modellata in modo anatomicamente corretto. Sulle braccia e sulle mani le vene sono descritte in modo accurato. Tutto l'apparato muscolare, tonico, teso e immortalato, un movimento prima della contrazione. I particolari della testa e del volto sono realizzati con accuratezza estrema. I capelli sono lunghi e ricci, stretti in una fascia che cinge la fronte. La fronte, la barba, è lunga e folta, anch'essa dentro adizio. La fronte è corrugata in atteggiamento concentrato. Le ciglia d'argento sottolineano la linea degli occhi. Le labbra di rame sono socchiuse e lasciano vedere i denti realizzati in argento. L'espressione è quella di un guerriero che si sta preparando alla battaglia. Le indagini effettuate nel corso dell'ultimo restauro hanno messo in evidenza sulla testa dei sulchi che indicano in origine la presenza di un elmo, portato al sommo del capo e non ancora abbassato a coprire il volto. Altri segni lungo il braccio destro e la posizione largata dell'indice e del medio della relativa mano. Lasciano invece sopporre che lungo il fianco fosse appoggiata una lancia, lasciata appunto scorrere tra le due dita. Nessun dubbio invece circa la presenza dello scudo sul braccio sinistro. La statua B, anch'essa in bronzo, è di un solo centimetro più bassa della prima. La struttura e la posizione del corpo ricallano in tutto quelle della statua A. Una lieve differenza si nota nel polso destro, maggiormente flesso rispetto alla prima statua. Il modellato della testa presenta invece alcune differenze. La calotta cranica è liscia, non modellata, come se lo scultore avesse tralasciato la descrizione dei capelli perché coperti da un copricapo. La tecnica materiale utilizzati per le ciglia, gli occhi e le labbra sono le stesse che per la statua A. In questo caso però la bocca è chiusa e non si vede in lenti. Il modellato della barba è estremamente curato, folta come nella prima statua. È caratterizzata da ciò che dall'andamento ondulato è minoriccio rispetto all'esempio precedente. All'interno della mano destra una sorta di anello di stagno lascia pensare che anche questo personaggio portasse la lancia. Ma in posizione più inclinata, sempre evidente sull'avambraccio sinistro il sostegno dello scudo. Le statue sono state realizzate con la stessa tecnica. Hanno dimensioni quasi uguali, sono in tutto simili nella postura ed hanno segni dei medesimi attributi. Sembra quindi difficile immaginare che esse possano essere state realizzate da artisti diversi e a distanza significativa di tempo l'una dall'altra. Altrettanto difficile immaginare che esse possano non essere parte dello stesso progetto di un unico gruppo. Il bronzo è una delle tecniche scultore le più complesse. Il materiale è costituito da una lega di rame e di stagno. Alla capacità elastiche e plastiche del rame si unisce lo stagno che fornisce maggiore durezza e resistenza alla corrosione e al processo di ossidazione. La tecnica, la resa automatica, la sicurezza nelle proporzioni e la raffinatezza del modellato non lasciano dubbi sulla datazione delle sculture al V secolo a.C. Più complessa la collocazione ad anno. La statuaria bronzea si sviluppa e si afferma in Grecia nelle colonie e nel cosiddetto periodo savero tra il 500 e il 470 a.C. è la fase in cui la scultura supera la rigidità arcaica in cui prende avvio lo studio accurato dell'anatomia. Il momento in cui i volti e le espressioni prendono l'ingenito affittizia del sorriso arcaico acquisiscono maggior realismo. Intorno alla metà del secolo, scultore Policleto di Argo fissa nel canone i principi di equilibrio e proporzione. Il suo dorifero, modello per eccellenza della figura maschile nuda, muscolosa e atletica, resta un punto di riferimento imprescindibile fino a Canova. Proprio perché le statue di Reggio sono affrontate agli stessi principi del canone di Policleto, alcuni studiosi hanno avanzato l'ipotesi che possa esserne lui lo stesso autore o qualcuno a lui prossimo. Alcuni ritengono che lo scultore dei bronzi abbia persino anticipato quanto poi il celebre Argivo ha eternato. Una delle poche domande a cui si può dare risposta certa è la provenienza, poiché durante l'ultimo restauro eseguito a Roma e concluso nel 2013 è stata rimossa e analizzata la terra di fusione. La terra piume è largo e quindi è lì che le statue sono state realizzate. Alcuni studiosi ancora resistono a questa evidenza scientifica, poiché per secoli lo studio dell'arte classica si è basato sul principio di superiorità della scultura attica, per cui un artista di tale capacità non poteva che essere di Atene. I studiosi ritengono che possono essere identificati con due atleti o plitodromoi, quelli cioè specializzati nella corsa con le armi. Questi velocisti solitamente impugnavano però lo scudo e la spada e non la lancia, arma decisamente troppo ingombrante. Più profonda l'ipotesi che possa trattarsi di guerrieri dal momento che non indossano l'armatura, dobbiamo però anche ipotizzare che essi non siano due guerrieri qualsiasi combattenti nella fila dell'esercito di qualunque polis greca. Il rinvenimento delle due statue è storia recente. Nell'agosto del 1972, un giovane sub vede spuntare un braccio del fondale marino a circa 300 metri dalla costa di Riace Marina. È realizzato una scoperta eccezionale. Le statue vengono recuperate dai sommozzatori dei carabinieri il 21 e il 22 agosto. Il lavoro di pulitura delle concrezioni viene effettuato presso l'opificio delle pietre dure di Firenze e i due bronzi vengono collocati nel Museo Nazionale di Reggio Calabria circa tre anni dopo. Tra Argo e Reggio ci era un lungo pellegrinaggio di cui non sappiamo ancora poco o nulla. Nessuna traccia delle imbarcazioni che doveva trasportare le due statue. Nessuna cronaca, nessuna trasmoneanza materiale.